Lutto nel mondo del cinema con la morte dell'attrice Kirstie Halley, la scomparsa dell'attrice a 71 anni rappresenta un'altra grande perdita per John Travolta, che negli ultimi mesi ha dovuto dire addio a due delle sue principali partner sul set. Dopo Olivia Newton-John, la scomparsa di Halley, che lo aveva affiancato nel popolarissimo film Senti chi parla. A poche ore dall'emergere della notizia della morte di Halley, Travolta ha voluto dire addio alla sua molly, così come chiamava il personaggio interpretato da Halley nel film. Quella con Kirstie è stata una delle storie più belle che abbia mai avuto. Ti amo e sono sicuro che ci rivedremo presto. Queste le parole dell'attore che celebra la sua collega con una foto insieme, sorridenti, di qualche anno fa. Le parole di Travolta rievocano quelle pronunciate da Halley in passato, quando aveva parlato chiaramente di un rapporto andato ben oltre la sfera professionale. L'ho amato, lo amo ancora, lo avrei sposato. Una confessione che Halley aveva fatto nel 2018 durante la sua partecipazione al Grande Fratello Americano, a riportare la notizia della sua morte avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, sono stati figli con un comunicato sui social. L'attrice aveva 71 anni e stava combattendo contro un cancro scoperto di recente. A tutti i nostri amici siamo dispiaciuti di informarvi che la nostra amata mamma è morta dopo una battaglia contro il cancro scoperto di recente. Era circondata dalla famiglia e ha combattuto con grande forza. Grazie a tutti i nostri amici.